Il Comune di Martinsicuro ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020 nell'ultima seduta del Consiglio Comunale. Sindaco, quali sono gli elementi principali soprattutto nell'ottica del cittadino? Innanzitutto rispetto al nostro programma elettorale, attenzione alle stanze dei cittadini che sono tante giuste e che meritano una attenzione ma chiaramente necessitano anche di un tempo per poter dare le giuste e adeguate risposte. La programmazione, la progettazione di interventi, pensare non solo all'immediato ma anche al futuro e quindi mettere risolte in progettazioni importanti per quanto riguarda le edilizie scolastiche ma anche per quanto riguarda il turismo e quindi le grosse infrastrutture, parliamo di piste ciclabili e rifacimento del lungomare. Iniziamo insomma a mettere una pietra su quello che doveva essere lo sviluppo dal punto di vista delle opere strategiche del nostro territorio quindi attenzione chiaramente al sociale, all'ambiente, a tante tematiche importanti quindi anche il discorso degli eventi, insomma un bilancio che cerca di toccare un po' tutte le problematiche della nostra città. Riguardo invece alle tasse e comunque ai tributi comunali ci sono novità per quanto riguarda la cittadinanza? Sì, sono rimaste invariate, abbiamo inserito all'interno del piano finanziario della Poliservice alcune somme che in passato non venivano previste, che riguardano lo spieggiato, abbiamo fatto una rivisitazione dei servizi riducendo quello che pensavamo si potesse ridurre, cercando di migliorare e implementare altri tipi di servizi ma al di là dei numeri e delle percentuali sarà importante capire, per esempio sul discorso del funzionamento del servizio dei rifiuti il funzionamento stesso appunto al di là dei numeri e al di là del bilancio sarà importante provare a dare delle risposte adeguate alle tante esigenze. Sulla progettazione degli interventi che lei prima ha accennato, quali sono le poste in bilancio superiori, le poste maggiori? Abbiamo messo 167 mila euro per strumenti importanti che riguardano la pianificazione urbanistica che riguardano il discorso del lungomare, l'edilizia scolastica, le piste ciclabili sono quelli i punti su cui stiamo intervenendo importanti punti strategici perché se noi non ci dotiamo di progetti non possiamo nemmeno attingere delle risorse i comuni da soli non possono fare, non possiamo sempre soltanto indebitare il comune ma dobbiamo agire con la leva dei mutui ma anche con la leva dei finanziamenti sovracomunali per questo è importante avere appunto dei progetti già cantierabili e su questo ci stiamo muovendo.